Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca. C'è voluto un anno per incastrare un padre che abusava del proprio figlioletto di cinque anni. L'uomo è stato colto in flagranza di reato e il bambino ha così potuto mettere finalmente la parola fine ad un terribile incubo. Ci racconta tutto Ketty Porceddu. Un padre in carcere e un figlio abusato è l'epilogo di una triste storia che si è consumata in una casa di periferia ovada dove l'orrore si nascondeva appena dietro la porta. Una storia che aveva visto il suo triste inizio un anno fa quando il bambino che allora aveva quattro anni aveva confidato alla madre che il papà era solito praticare degli strani giochetti su di lui. La donna che già allora aveva visto incrinarsi il suo rapporto con quell'uomo trentenne la cui vita era scandita da una serie infinita di lavori precari si era recata dai carabinieri raccontando quanto il bambino le aveva riferito. Madre e figlio letto erano stati fatti allontanare in via precauzionale e portati in una comunità protetta ma poco si era potuto fare allora per l'uomo salvato da racconti frammentari e da pochi riscontri oggettivi. Sì in casa gli inquirenti avevano trovato materiale pornografico ma nulla di illegale comunque niente di così compromettente da poterlo incastrare. I rapporti erano stati interrotti ma poche settimane fa era stato deciso di provare a ridare una forma di normalità a questa famiglia già sgretolata dalla separazione dei due conviventi. Gli assistenti sociali dapprima presenti agli incontri tra padre e figlio poi la decisione di lasciarli soli anche se per tempi ristretti e l'orrore è ricominciato. Il bambino è tornato in comunità dalla madre e ha nuovamente raccontato che il padre continuava ad abusare di lui. Tanto è bastato per vederci più a fondo. I carabinieri hanno nascosto telecamere e cimici nell'appartamento e hanno avuto il riscontro che quel povero figlio oggi di cinque anni gli abusi non li aveva fantasticati ma vissuti veramente. Il 31enne così stato arrestato in flagranza di reato non ha opposto resistenza e si è consegnato ai carabinieri. Dietro le sbarre del carcere di Alessandria si è portato appresso non solo la pesante accusa di violenza su minore ma probabilmente anche i fantasmi di una vita completamente sbagliata. Seminfermo di mente Carmelo Reitano il falegname 73enne che lo scorso anno a Valenza uccise a coltellate la moglie vegliandone poi il cadavere per tutta la notte. L'udienza preliminare è stata fissata per il 19 settembre. Sentiamo. Ho perso la testa e agito con la mente annebbiata da un blackout. Carmelo Reitano, falegname in pensione di 73 anni, abitante a Valenza, la sera di fine settembre dello scorso anno uccise a coltellate la moglie Rita Giuseppa Lercaro di 67 dopo un violento litigio e nevegliò il cadavere per tutta la notte dando l'allarme il mattino dopo in stato confusionale. L'uomo spiega con quella frase il delitto che lo ha portato in carcere con l'accusa di omicidio aggravato avvenuto nella palazzina di Via Trieste dove abitava la coppia. L'udienza preliminare affidata al GUP Stefano Moltrasio è fissata per il 19 settembre. I difensori Stefano Baniera e Cristian Bergonzelli chiederanno l'abbreviato che riduce la pena mitigata da un'altra circostanza. La concessione dell'attenuante per vizio di mente. L'uomo è stato riconosciuto seminfermo per problemi psichici. Un disturbo neurocognitivo che lo rende socialmente pericoloso ma capace di stare in giudizio. Questo ha affermato il perito d'ufficio professor Pellegrino che lo ha sottoposto all'esame psichiatrico su richiesta del PM Silvia Saracino e dei legali del Luxoricida. Ricoverato in un primo tempo alle molinette di Torino per problemi depressivi Luxoricida è tornato mesi fa in carcere conscio della gravità del suo gesto che ha spento la vita della donna con la quale divideva l'esistenza da 19 anni e sposata da otto solo con il rito religioso. Lei aveva lavorato a lungo in una casa di riposo. I parenti della vittima sono parte civile con Francesco Casarin, Stefano Cresta e Claudio Teruggi. Secondo i vicini la coppia stava bene insieme sia lui che lei apparivano sorridenti ma i litigi si ripetevano con una certa frequenza. Luxoricida quando chiamò i carabinieri non ebbe difficoltà ad ammettere la propria responsabilità dell'aggressione con due coltelli e sospirato dalle continue pretese di denaro da parte della donna la quale chiedeva di essere pagata perché lo acudiva. Le pensioni certo erano modeste, 900 euro al mese lui, forse meno ancora lei e le questioni economiche da qualche tempo erano diventate motivo di frequenti dissapori. Morire a 67 anni per mano del compagno di vita significa essere stata uccisa ogni giorno come donna. Fu il commento delle operatrici del centro antiviolenza Medea all'indomani della scoperta del delitto. Cambiamo argomento ad agosto a causa del blocco del trattamento dei rifiuti nell'impianto di Castelceriolo sono andati persi 550 mila euro. Ora la situazione molto critica per il futuro della partecipata Alessandrina Aral finita nel filone d'inchiesta della procura di Brescia che sta indagando su un traffico di rifiuti si è sbloccata almeno per la questione smaltimento immondizia. Si sblocca la situazione dello smaltimento rifiuti nel basso Alessandrino. Si sblocca l'emergenza Aral che coi conti in rosso dopo lo stop su Castelceriolo e il concreto rischio di arrivare al fallimento nel giro di poche settimane ora vede uno spiraglio di ripresa. La svolta arriva dal summit convocato ieri in prefettura ad Alessandria. Al tavolo di discussione hanno preso parte il commissario Alessandro Giacchetti, i tecnici di Arpa e Servizio Ambiente della provincia, il comune di Alessandria che possiede il 93% di Aral, lato 6 il prefetto. Questione di poche ore e con un contratto sottoscritto proprio a Palazzo Ghilini la partecipata sotto inchiesta da parte della procura di Brescia potrà nuovamente accettare e trattare l'immondizia che arriva al di fuori del lato 6, in particolare quella di Genova. E poi, nodo fondamentale, andava risolta la questione dei rifiuti accumulati nell'impianto di Castelceriolo. Si è calcolato un totale intorno alle 15.000 tonnellate, un quantitativo enorme che ora ne vedrà uscire 3.300 di tonnellate in rifiuti dai capannoni 19 e 19A. Sarà la ditta stigiana Gaia a togliere dagli impicci Aral con una richiesta di 100 euro a tonnellata ritirata. Di fatto, l'emergenza rifiuti e il rischio tracollo è stato scongiurato. Certo è che Aral, fino a poche ore fa a rischio fallimento, ora potrebbe anche tornare ad avere un ruolo importante nel panorama delle partecipate alessandrine. Lo ha accennato con timido ottimismo l'assessore Paolo Borasio. Un iter ancora lungo, con una scadenza imminente, la presentazione a Roma da parte del Comune di Alessandria il prossimo 30 settembre di un piano di razionalizzazione in materia di partecipate. E allora restiamo in tema, diamo uno sguardo all'universo delle società partecipate da parte degli enti della pubblica amministrazione. Il Ministero del Tesoro ne ha infatti censite ben 93.280. Ce n'è per tutti, comuni, università e camere di commercio con una media stimata di 9 per ente. Sentiamo Roberto Monteriso. Una società partecipata è una società nella quale una quota di capitale sociale è di proprietà di un ente pubblico. Una tendenza che spesso ha rappresentato e rappresenta nella maggior parte dei casi una zavorra per gli enti. Si è calcolato che in Italia esistono 8.893 aziende di cui lo Stato e le sue articolazioni sono azionisti. Ma l'ammontare complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette, è molto più elevato e il Ministero del Tesoro ne ha censite ben 93.280. Ce n'è per tutti, comuni, università, camere di commercio, ACI, con una media stimata di 9 per ente. Un dedalo ramificato che oggi la legge impone a ciascun ente di comunicare anno per anno con l'entità del proprio patrimonio. L'ultima istantanea è del 2014. Quel rapporto censisce 6.702 su 10.760 enti, ovvero tutti quelli che hanno risposto al questionario. I comuni che dichiarano di possedere almeno una partecipazione sono 5.220, in tutto 37.818 quote dichiarate, di cui 26.969 dirette. Se si considera che l'intera pubblica amministrazione, il totale delle quote dichiarate, dirette e indirette, sale a 48.896, solo l'incrocio dei dati da parte dei tecnici del Tesoro fa emergere un numero quasi doppio di quote non dichiarate e si arriva alla fatidica cifra di 93.280. Gli enti che dichiarano di non possedere nulla sono solo 992, sul campione di 10.760. Di questi appena 593 sono comuni. Da tempo ormai è il momento di sfoltire, perché le partecipate pesano economicamente e nella maggior parte dei casi non risulta utile farne uso. Polemiche ad Alessandria sulla sicurezza in piazzale Berlinguer, adiacente all'ospedale civile dopo l'aggressione ad un'infermiera derubata da un uomo che poi è fuggito. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco chiede alla direzione sanitaria proprietaria del parcheggio di installare le telecamere di sicurezza, ma intanto fra ladri e parcheggiatori abusivi la zona continua ad essere nel mirino della cittadinanza che invoca più controlli. Dede Vinci si è recato sul posto e allora sentiamo il suo servizio. Dopo le notizie di cronaca, la notizia dell'infermiera che è stata aggredita, derubata, la quale è stato poi fratturato un braccio, siamo venuti ancora una volta a rivedere qui in piazzale Berlinguer a fianco all'ospedale civile com'è la situazione. Volevamo sentire il parere di alcuni operatori che sono qui sul campo tutto l'anno. L'ultima volta, poco prima delle elezioni, eravamo venuti a sentire il titolare di questo bar che adesso è chiuso perché questa signora aveva con sé, aveva raccolto qualcosa come 5.000 firme di cittadini che chiedevano l'intervento per mettere più illuminazione durante la notte, per mettere un servizio di telecamere per un maggior controllo e richiedevano più interventi di tutte le forze dell'ordine. Perché qui, oltre al problema dei parcheggiatori abusivi che chiedono la questua, che chiedono più o meno educatamente, molte volte maleducatamente, con violenza di avere un diritto al parcheggio che gli hanno segnalato libero. Però poi ci sono già per tutto il giorno diverse situazioni di pericolo. Per cui ci sono coloro che si mettono, come sta succedendo adesso, come abbiamo visto, siamo stati testimoni anche noi, si mettono sull'attraversamento pedonale che porta dall'ospedale fino a piazza Berlinguer e dislocati in maniera strategica bloccano quasi tutti coloro che attraversano la strada per raccontargli una storia fantomatica che inventano tutte le volte per arrivare poi la serie ha la stessa conclusione che ha mica 2 euro o 3 euro da darmi. Voi avete saputo che questa infermiera smontava dal servizio di notte, è stata aggredita, gli hanno rotto un braccio. Questo piazzale, insomma, ha tanti anni che è nell'occhio del ciclone, si dice faranno interventi. Voi come lo vedete? Ma chiaramente immagino per chi lavora, chi è una donna e tutto quanto sia abbastanza problematico tutte le notti e le mattine, insomma, quando è l'orario di uscita, trovarsi qui e avere paura di dover recuperare la propria auto e tutto quanto. Io spero che le telecamere che pare vogliano mettere possano essere un deterrente per chi è malintenzionato. Chiaro che forse dovrebbe esserci un po' più di sicurezza in generale in questa zona. Un po' più di luce di notte, poi le telecamere che sono anni che... I ragazzi che lavorano, che si trovano al buio, che escono da lavorare al buio, con tutte queste persone che girano adesso, non è tanto bello, eh? Se la Regione Piemonte darà lo stato d'emergenza per crisi idrica ai comuni della Valle Bormida, si potranno tamponare in parte i costi che il protrarsi di questa situazione siccitosa sta facendo lievitare in modo preoccupante. La richiesta è stata inviata ieri al termine di un vertice con i sindaci delle comunità interessate dal rischio di razionamento dell'acqua. Stato di emergenza per la Valle Bormida. La richiesta di aiuto nei confronti di una crisi idrica che sta portando allo stremo una dozzina di comuni di questa fetta di Piemonte è stata inoltrata alla Regione dall'amministrazione provinciale di Alessandria. Un'emergenza che ad oggi costa ogni giorno almeno 10.000 euro e che, se non piove, si sta affrontando solo con l'idea di un razionamento che potrebbe coinvolgere oltre 13.000 persone. I disagi ci sono. Al momento la città di Aquiterme, che per ora è solo sfiorata dal problema grazie al collegamento con la falda idrica di Predosa, viene usata come punto di prelievo per alimentare le vasche degli acquedotti in valle. Se arrivasse il riconoscimento dello stato di emergenza, si potrebbero coprire i costi che si stanno sostenendo in questi giorni e ottenere le risorse necessarie per portare avanti un progetto risolutivo. Collegare cioè il campo Pozzi di Gaini, sul torrente Erro a Cartosio, con il tubone che Acqui ha costruito dopo la crisi idrica del 2003 per unirsi alla falda di Predosa. E' questa un'operazione da alcuni milioni di euro per circa 10 chilometri di tubature. Verrebbe ultimato nel giro di 2-3 anni, ma sarebbe una garanzia per l'approvvigionamento idrico a lungo termine. Intanto, in segno di solidarietà coi comuni limitrofi, il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, ha firmato l'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua per scopi diversi da quelli igienici e alimentari, lavaggio di auto, irrigazione di orti e giardini, riempimento delle piscine. Andiamo in Liguria, incidente stradale questa mattina intorno alle 6 in via 25 Aprile a Cogorno in provincia di Chiavari, dove un furgoncino per vie ancora in fase di accertamento ha perso il controllo. Il mezzo ha urtato diverse autovetture e poi è finito, ha finito la sua corsa su un fianco. Il conducente ferito è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo e per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Chiavari. L'uomo è stato poi portato in ospedale con un'ambulanza del 118, sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Ed ora torniamo in Piemonte, perché anche l'arte può andare in risposta al terrorismo. È il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a lanciare un'iniziativa legata ai dissuasori collocati nel capoluogo piemontese. Posto che la sicurezza viene prima di tutto, anche l'impatto visivo merita attenzione, specie in una città che ad agosto ha fatto segnare un record di visitatori. Ha detto, nei prossimi giorni verranno coinvolti writers e allievi dell'Accademia per dimostrare come la risposta della città di Torino al terrorismo non sia la paura, ma l'arte, i colori e la voglia di guardare avanti. Si tratta quindi di un'operazione di abbellimento dei dissuasori e dei mezzi anti sfondamento insallati nel centro cittadino. In questi giorni, in alcune delle zone più frequentate di Torino, sono comparsi, come sapete, diversi dissuasori proprio per il traffico, come Fioriere, Piramidi e Barriere Jersey, che hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza di chi frequenta questi luoghi. Ha scritto ancora la sindaca sul suo profilo Facebook, ricordando che si tratta di un'iniziativa del Ministero dell'Interno che interessa tutte le principali città d'Italia a seguito dei recenti fatti di Barcellona. Qualche disagio da domani e fino a giovedì 31 agosto sulla provinciale 10 Alessandria Spinetta. Sono infatti in programma dei lavori di verifica sul Ponte Bormida e per questo motivo dalle 7 di domani mattina i mezzi dovranno viaggiare su una sola carreggiata. Verrà infatti chiusa fino alle 18 di giovedì la corsia di sorpasso in direzione Spinetta. Sono questi controlli di routine, programmati periodicamente e spiegano dagli uffici che interesseranno il manto stradale e la pila del ponte. Per tutto il periodo delle operazioni il limite sul tratto interessato sarà di 30 chilometri orari. Siamo arrivati al termine del telegiornale. Tra poco la pagina sportiva. Ci occuperemo di una che riguarda l'uso dello stadio Costante Girardengo di Novi Ligure che è conteso da quattro società sportive. Tra poco il servizio, poi come sempre il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.